Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono JollyJoker e siamo tornati su Clash Royale Questo sarà un video molto breve ragazzi, ma un video veramente... non epico, non straordinario, bensì un video legge, non ti muovere LEGGENDARIO Stiamo parlando ragazzi della possibilità di prendere una leggendaria su Clash Royale al 100% Ultimamente ragazzi ho contattato la Supercell molte, molte volte finché non gli ho fatti cedere Mi hanno detto che al prossimo aggiornamento ci sarà la possibilità di prendere una leggendaria molto, ma molto facilmente Questa è un'ottima notizia, infatti avremo la possibilità di prendere la leggendaria in un baule dedicato alle leggendarie Oh la madonna! Ci sarà anche una cesta dedicata alle carte epiche, ma noi delle carte epiche ce ne freghiamo altamente Noi servono le leggendarie E lo credo bene! Ragazzi il baule in questione è questo qui, ovvero la chest legendary Il baule leggendario ragazzi sarà un baule in cui troverete una sola carta e questa sola carta sarà una carta leggendaria Questo era quello che mancava a Clash Royale più di tutti Ovvero la sicurezza che all'apertura della chest troverete una carta leggendaria al 100% Non so ancora se questi bauli saranno disponibili soltanto in determinate competizioni Oppure questo baule sarà scioppabile tranquillamente nella prima schermata di Clash Royale L'unica cosa che so ragazzi è che la leggendaria chest e la epic chest le troverete nelle competizioni E potranno esservi date gratuitamente alla vittoria Come quando trovate un baule magico o un baule super magico Dici davvero? Per aprire ragazzi questi bauli saranno sufficienti 12 ore per l'epic chest e 24 ore ovvero un giorno per la leggendari chest Che dire ragazzi questa cosa secondo me ci voleva Ora io però non so se con questi nuovi bauli sarà diminuita la possibilità di trovare una leggendaria nel baule omaggio Nel baule d'argento, in quello della corona eccetera eccetera Spero che non sia così perché così la possibilità invece di aumentare diminuirebbe E la supercell mi ha assicurato che dal prossimo aggiornamento ovvero da questo La possibilità di trovare una leggendaria sarà molto ma molto superiore Ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo leggendario aggiornamento Vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate tanti bei like, iscrivetevi al canale, commentate e condividete Se volete entrare nel mio clan ragazzi qui sotto c'è il nome cercatelo Bisogna avere più o meno 2000 coppe Ma la cosa varia da 2000 a 2200 coppe per entrare in base alla disponibilità Perché siamo sempre strapieni e stiamo cercando di dare la possibilità a tutti di entrare Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga